ma buongiorno buongiorno romanticone ti sei visto titanic hai fatto benissimo cuore bellissima serata sicuramente senti e niente va bene vuol dire che la bira e l'anto andranno al concerto di renga benissimo non poteva andarci meglio cuore e a te piace Giulietta anche a Giuseppe assai gli piace tanto infatti anche Giuseppe deve vincere Giulietta e lo votò pure ieri prese il telefono e lo votò ma anche a Giuseppe e vabbè stava dormendo ma tu sai che stanotte sono rimasti in piedi fino alle due e mezza lui e la nonna ieri sera disse papi stavo pensando posso vedere se andremo con nonna ho detto vabbè se nonna vuole stare fino a quell'ora e vabbè la nonna l'ha accontentato e vabbè la nonna è la nonna i nonni sono i nonni lo sai benissimo senti e poi niente poi tutto tranquillo sì ieri siamo stati al pub 2 Enrico VIII e niente cuore e mo gli ho preso una brioscia al cioccolato a Giuseppe non so a che ora si sveglierà e mo gli preparo una una colazione dai va bene senti poi niente ma me ne vado giù sto un po' giù così forse mi pulisco la scrivania oggi ma vediamo se mi ingozzo e poi niente quindi niente trasfusione anche oggi almeno credo domani penso che faranno gli esami vabbè io io sinceramente no da profano avrei preferito fare a intermittenza no no tutta una volta stoppare magari che ne so fare da tutti i giorni un giorno sì un giorno no poi dopo una settimana un giorno sì due giorni no e senza stoppare anche la medicina là per mantenere le piastrine avrei alternato però se loro hanno fatto così evidentemente voglio dire alla fine sono loro i medici e sanno loro quello che fanno ci mancherebbe va bene va bene va bene senti e niente che dire una buona domenica cuore ci sentiamo dopo e niente il babbo non ha chiamato aspettiamo vediamo forse chiamano oggi non lo so se chiamano se sveglio sicuramente chiamano se no altrimenti chiamerà chiamerà lunedì va bene va bene beh sono contento stiamo vivendo un periodo bellissimo sono contento cuore sono contento ci aggiorniamo a dopo allora ok un bacio un cuore e un abbraccio andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti corre andiamo avanti dai speriamo che noi crociamo le dita che le piastrine mantengono eh e quello è quello che ci serve in modo tale che finalmente possiamo dire voglio preparati che domani viene il macchinone a prenderti beh ciao cuore mio ciao ciao